Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese e Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti per perdita di carico tra Barberino e Calenzano in direzione di Firenze. Prudenza sulla 12 per vento forte tra Pisa e Rosignano, raccomandiamo particolare prudenza a mezzi Teronati e Caravan. Per le statali su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per Gantieri tra Monte Rigioni e Siena in direzione di Siena. Ultima pagina per il traffico ferroviario, informiamo che le biglietterie di Cecina e Follonica oggi e domani sono chiuse al pubblico. Siamo al traffico aereo, il volo Firenze-Amsterdam delle 17.40 quest'oggi è cancellato. Il volo Pisa-Varsavia delle 15.55 al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 18.30. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!